Questa situazione. Supponiamo ad esempio che in un determinato articolo qui dovessimo mettere un pulsante di generazione PDF o magari facendo un post ci desse magari un PDF di ritorno. A questo punto il back end che fa, il back endista che fa, ci crea il PDF e il risultato che ci ritorna è un byte array, sarebbe il PDF. Ora, quello non è un JSON, se noi andiamo a provare a invocare una chiamata di quel tipo e quindi che il back end ci ritorna un byte array, ovviamente non funziona. Oppure, ad esempio, ci sono delle situazioni che invece di ritornare un JSON, ritorna soltanto una stringa. Può succedere e quindi magari in una post il ritorno è fail ok. Fail magari significa che non è andato a buon fine, ok significa che è tutto a posto. Per carità, dipende poi com'è lo schema architetturale, però può succedere. A quel punto bisogna cambiare il tipo di response. Come si fa? Se abbiamo visto, ad esempio, nella get, ma questo funziona anche per gli altri verbi, qui, oltre a sccontest, ids, eccetera, c'è anche il response type. Chiaro? Nel response type, qui, possiamo definire il tipo di response. In questo caso, ad esempio, json e il problema non sussiste. Se abbiamo un texto, response type, scusate un attimo che non me lo ricordo. Ok. Se gli dico response type text, ovviamente non posso avere un oggetto, non posso avere, diciamo, Angular non riesce a fare la conversione di un response type text in una interfaccia. Quindi, per fare un response type di text, devo togliere via il generics. Questo in questo caso, lasciate per, in questo momento, il return qui, siccome qui mi aspetto un article, posso fare in questo modo. Ovviamente, posso anche farlo se il response on json, ok? Ma, se avessi, ad esempio, se il back-end dovesse darmi un byte array, perché va a generare un pdf, il response type qui potrebbe essere un array buffer. Cosa dà questo array buffer? Dovrebbe darti, se non ricordo male, un byte, un blob. No, di solito dovrebbe dare un blob, vediamo un attimo, perché la get di un byte array è parte che, secondo me, dovrebbe esserci anche il blob. Infatti, il blob dovrebbe dare un blob. Vediamo. Infatti, vedete? Quindi, Angular, il team di Angular, ha fatto in modo che, se, ad esempio, è un byte array, quindi un blob, quindi, ad esempio, un pdf, che viene generato lato back-end, oppure, un altro caso, invece di un pdf, è un excel, che viene generato lato back-end, perché ci sono tanti dati, oppure, vuole creare uno zip, perché magari nel back-end ci sono tanti file, e quindi, quando, da front-end vogliamo scaricare tutto l'insieme dei dati, ci dà uno zip, la risposta, di solitamente, è un byte array, o comunque sia un blob, quindi, ad Angular, gli diciamo, response type blob, e abbiamo un blob, che ci facciamo poi con questo blob, facciamo un windows location, con il tipo di file, che magari, tramite altre chiamate, o in accordo con il back-endista, sappiamo che era, e apriamo. questo file, che ci arriva, eh, dal back-end, chiaro? Simpatico, no? Allora, facciamo, una cosa, che, spero vi faccia contenti, andiamo, a committare, tutto questo, sul, nostro repository GitHub, ok, quindi, qui ci scriviamo, eh, Angular, HTTP Client, senza, routing, la prossima volta, ce l'andiamo a agganciare, facciamo il commit, fatemi un attimo controllare che sia tutto quanto a posto, sì, mi sembra di sì, diciamogli sì, quindi, ha messo tutto, eh, ok, cancel, niente, bisogna per farciare l'insetto, vediamo se riesco a farlo da qui, ok, hit add, punto, hit commit, meno m, angular, HTTP Client, senza, ok, e adesso andiamo a fare un bel push, ragazzi, eh, sull'HTTP Client, diciamo che, le cose principali, le abbiamo sviscerate, siamo andati anche a vedere, eventuali casi eccezionali, tipo, ad esempio, il blob, o il text, solitamente non è che capita, proprio tanto spesso, però, abbiamo visto come funziona l'interceptor, ovviamente potete creare più interceptor, quindi per ogni chiamata, verrà eseguito in cascata, prima uno, poi l'altro, secondo l'ordine in cui mettete voi, uno ad esempio degli interceptor, soliti che si fanno, quello proprio del Beaver Token, un altro interceptor, quello magari di mandare i log, verso un back end, quando va in errore, o magari un altro servizio, eh, che fa il controllo, proprio della nostra web app, e abbiamo visto il get, il post, non abbiamo visto la delete, il put, però funziona sempre nella stessa identica maniera, e diciamo che con il get e il post, avete coperto, abbastanza, quasi il 70, l'80% delle operazioni che andrete a fare, e, ovviamente con la delete, cosa significa? Significa che ad esempio, nel caso degli article, di questo esempio, si va a cancellare il post, ok, quindi con la delete si va a cancellare, con la put, solitamente si va a fare una modifica, quindi la post è un inserimento, con la put si fa la modifica al record stesso, e questi sono, o con la put, oppure anche con la patch, solitamente sono più o meno equivalenti, ma la patch praticamente non la conosce nessuno, almeno, nella mia esperienza, non ho quasi mai visto nessuno, usare il patch, tutti usano la put, a dire il vero, anche la put, non è che proprio la usano tutti, e la maggior parte dei back-endisti, vedo che usano soltanto get e post, quindi, diciamo che, ho coperto qualcuno, magari fa la delete, non sono tantissimi, però questa è la situazione, soprattutto se andate a fare consulenza, se andate a lavorare presso clienti, questa è, diciamo, la normalità, che insomma, può anche andar bene, non è che, poi, il resto, insomma, sono anche, sì, sono dei raffinamenti, sono dei miglioramenti, però, diciamo che, possiamo accontentarci, c'è di peggio, io ho visto degli inserimenti, fatti in get, con le query string, quindi, diciamo che, può andar peggio, vi saluto, alla prossima puntata, ciao! Grazie! Grazie a tutti